Nell'ottica del contrasto alla corruzione e illegalità della pubblica amministrazione, la Camera di Commercio di Teramo, che dal 10 dicembre prossimo sarà definitivamente fusa con l'Aquila e si chiamerà Gran Sasso, ha organizzato una giornata della trasparenza e dell'integrità. Intanto va ricordato che esiste una vigilanza costante sull'ente camerale effettuata dall'organismo indipendente di valutazione della Camera di Commercio. La giornata odierna è dedicata alla divulgazione degli obiettivi della Camera di Commercio, alla sensibilizzazione sul tema della trasparenza nella pubblica amministrazione. La trasparenza infatti è la principale misura per prevenire i fenomeni di corruzione all'interno di enti pubblici. L'organismo indipendente di valutazione deve monitorare costantemente, deve monitorare sull'intero sistema di valutazione della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni. Quali sono i compiti della Camera di Commercio? Chi sostiene? Chi aiuta? A parte il compito amministrativo istituzionale che è la gestione del registro delle imprese, è chiaro che tutte le imprese che operano su un territorio provinciale devono essere obbligatoriamente iscritte alla Camera di Commercio. Esistono poi servizi di assistenza proprio alle imprese per tutto quello che può riguardare l'attività imprenditoriale nell'ambito di un territorio. Oggi con la riforma ai compiti prima elencati si aggiungono altre funzioni di particolare rilevanza. La Camera di Commercio sarà titolare dell'orientamento in materia di alternanza scuola-lavoro. La giornata sulla trasparenza a Teramo è stata anche l'occasione per condividere e conoscere la futura realtà camerale del Gran Sasso che comprenderà 155 comuni, 85.000 aziende ed un territorio che si estende su quattro parchi nazionali. Questa nuova Camera di Commercio sarà trasparente? Sarà una casa di vetro? Sì, oggi appunto presentiamo il rapporto, la quinta giornata che facciamo, sulla legalità, la trasparenza. La Camera di Commercio deve diventare sempre di più una casa di vetro dove tutto ciò che si fa deve essere conosciuto dalle imprese e dai cittadini in maniera limpida, trasparente e per dare sempre un servizio migliore e più coerente rispetto alle situazioni per quanto riguarda le imprese. E questa trasparenza come potrà essere concretizzata? Ma guardi, intanto la Camera fa una serie di servizi dove il cittadino e le imprese possono accedere, capire, conoscere, diciamo, tutto l'escursus. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.